ciao anche oggi un nuovo video sulla stampante annetta 2 come potete vedere le stampe hanno una buona risoluzione lungo l'asse x mentre presentano delle brutte ondulazione lungo l'asse y per questo motivo ho deciso di andare a sostituire le ruote originali che movimentano il carrello dell'hotbed con una guida ricircolo di sfere ora vi lascio al video se avete delle curiosità sull'intervento effettuato scrivetelo nei commenti sarò felice di rispondervi iscriviti al canale 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 Con questi interventi la qualità di stampa è migliorata notevolmente. Il piatto di stampa è diventato molto più robusto e stabile. Se il video ti è piaciuto lasciami un like e condividilo con i tuoi amici per aiutarmi a far crescere il canale. Ciao, alla prossima!